Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornate o benvenuti sul canale. Oggi video veramente corto corto, piccolo piccolo, perché volevo mostrarvi una nuova scoperta che abbiamo fatto io e la mia collega, o meglio ancora, ha fatto la mia collega Lella, ma lei non avendo YouTube non può condividerla con il mondo intero e quindi ho detto dai Lelli, compriamoli, li proviamo e poi se sono buoni li condividiamo. Di cosa vi sto parlando? Di T4T, spero che si dica così, perché io da Lombardozza ho letto T4T, poi mi sono detta, ma no, è americano T4T, quindi il T per T, magari no, però. E vabbè, bando alle ciance, insomma. Io e la mia collega Lella, siamo molto amiche, siamo colleghe, ci conosciamo da più di vent'anni, perché lavoriamo insieme da più di vent'anni, e ci invitiamo l'una con l'altra a spendere i soldi. Io con le cose di Cosmesi che magari scopro, che provo, col DM, infatti sabato andrò al DM con lei, poi andremo anche alla Lidl perché è lì vicino, e quindi insomma ci diamo manforte per sostenerci e per far girare un po' l'economia di questo mondo. Da quando siamo nel nuovo ufficio abbiamo comprato un bollitore, abbiamo comprato dei tè, delle tisane, quelli normali, commerciali, insomma, da supermercato. Sa che a me piace tantissimo anche il tè, magari un po' particolare, le tisane un po' particolari. Da sempre mi piace il tè, da sempre mi piacciono le tisane. Ho avuto anche un momento che Mattia era praticamente appassionato di tutta la storia del tè giapponese, anzi ha fatto la sua tesina dell'istituto grafico che ha frequentato delle superiori, proprio su il Giappone, sul tè, sul rito del tè e quant'altro. Quindi era stato veramente un lavoro molto bello, da lì ha cominciato ad appassionarsi e per noi tazze, tisane, tè, zuccheri particolari, insomma, sono tutti un po' un piacere che ci concediamo, magari non tutti i pomeriggi, però quando siamo a casa al pomeriggio abbiamo anche le teieri in ghisa, abbiamo le tazzine quelle piccole, anche se a me piace berlo nella tazzina più grande, ma vedi che sto diventando sempre più lunga, niente. Abbiamo scoperto questo sito, sito, sito meraviglioso, che non conoscevo e mi ha colpito per la grafica, per l'eleganza della proposta proprio anche nel packaging, oltre che alla qualità dei tè, dove ho letto un po' di recensioni e anche un'amica su Instagram mi ha detto che sono eccezionali, sono buonissimi. Ecco, io non li ho mai visti, non li conoscevo e devo dire che mi hanno colpito tantissimo per l'eleganza e la bellezza. Oltretutto c'è un kit che costa sui 50 euro dove c'è 6 confezioni di piramidi del tè, più la tazzina che è stupenda perché ha il forlino per far uscire, ma adesso vi faccio vedere, e c'è il piattino appoggia filtro, insomma davvero molto carino, costa 50 euro. Vi ho fatto vedere anche questa cosa perché magari se state cercando dei regali di Natale da fare a delle amiche o degli amici che amano il tè, amano tutta questa ritualità e soprattutto dei tè e delle tisane di ottima qualità, magari ci potete fare un pensierino. Non sono sponsorizzata, non mi conoscono, non sanno neanche chi sono, non c'è nessuno sconto, mi piace da sempre condividere le novità, le cose belle che scopro, da sempre, da sempre, da sempre, da quando ho il blog, da quando faccio le ricette, non mi è mai interessato se mi, tra virgolette, mi rubavano una ricetta per poi pubblicarla da qualche altra parte, l'unica cosa che chiedevo era la correttezza di indicare che la ricetta fosse mia o comunque di avvisarmi che la ricetta poteva servire per qualcosa. E devo dire, devo essere sincera, non mi è mai capitato che nessuno si prendesse qualcosa senza mai avvisarmi. Mi piace la condivisione gratuita e io tramite la condivisione di tante amiche, da tanti blogger, di tanti youtuber, ho imparato e ho conosciuto tantissimo ed è, secondo me, una cosa bella che tutti magari possono venire a conoscenza di tante altre cose belle se le si condivide senza nessuno scopo particolare, ma solo per la gioia di far sapere a qualcun altro che questa cosa qui ti è piaciuta e niente. Allora, come vi dicevo, il sito si chiama T4T, viene rivenduto da un'azienda di Varese, la Living Emotion, e ho scoperto che questo tè è nato nel 2003 dalla realizzazione del sogno di un designer americano, Peter Ewitt, che voleva catturare l'idea di catturare l'arte del tè e, diciamo, ricreare la cerimonia del tè è una chiave più moderna. Non vi sto a leggere tutto perché sennò diventa un video lungo, vi metterò poi sotto tutte le indicazioni del sito, degli articoli che noi abbiamo comprato e di tutto quanto. Insomma, voi andate, fateci un giro, lustratevi gli occhi perché secondo me è veramente da lustrarsi gli occhi. E' stupendo. Allora, prima confezione che abbiamo preso è questa. Ci sono confezioni da 20 filtri, confezioni da 10 filtri e anche delle confezioni forse un po' più piccole da provare, ma noi ci siamo buttate così quasi al buio. Queste sono una collezione di 10 piramidi di tè. Poi avevo preso anche l'altra con le tisane, ma la scatola, siccome era da 20, ce le siamo divise, la scatola da 20 se le è tenuta la Lella e la scatola da 10 da 10 me la sono tenuta io. E quindi qui dentro poi trovate... L'ho fatta vedere su Instagram perché volevo creare, così volevo provare a fare un reel, ma vabbè, sono un po' imbranata, ma comunque guardate, cioè guardate la meraviglia della scatola della confezione. Qui in altro vi viene indicato quello che contiene. Adesso guardate qua la meraviglia. Allora, questa è la confezione. Cioè, ditemi voi se non è stupenda, la vedete bene? Sì, è favolosa. E il filtro è ancora più elegante. Adesso vi mostro bene. Infatti io le ho soltanto annusate perché non le voglio. Guardate, c'è. E non è spettacolare, è meraviglioso. E secondo me è anche da fare davvero un regalo carino e elegante a chi piace il tè o la tisana, o comunque anche soltanto a chi gli piace tutto questo rito che è particolare ed è davvero meraviglioso. Cioè io le continuo ad annusare. Sono buonissime e bellissime. Quindi ci siamo divisi appunto un po' di tisane e un po' di tè. Vi arrivano in questa confezione stupenda. Questa è altrettanto bella. Sempre all'interno avete, diciamo, le tipologie di tè e di tisane che sono contenute. E poi francamente appunto c'è l'eleganza fatta a packaging e dai, sono stupende. Non vi dico che profumi, poi guardiamo, vi faccio vedere anche questa. Si sentono proprio, cioè si vede proprio l'erba, il tè, la tisana. È meraviglioso. Sono profumatissimi, guardate che carini. Questo c'è, fatta benissimo. Mamma mia, che spettacolo. Oppure anche così, insomma. Bella, 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 bella. E niente, se vi iscrivete alla newsletter, che noi ci siamo iscritte, avete subito lo sconto del 15% sul primo ordine, quindi perché no? In modo che si rimanga anche sempre aggiornati su queste meraviglie. Io vorrò, voglio sicuramente, mi regalerò sicuramente la tazza, come se io non ne avessi già abbastanza. La tazza che, se riesco, vi lascio qui una piccola immagine o che scorre l'immagine. E nulla, queste confezioni noi le abbiamo pagate 22 euro con 10 filtri. E 33 euro, quelle invece con 20 filtri. Vi pare di sì. Comunque, anche lì vi lascio tutte le indicazioni qua sotto. Volevo soltanto farvi questo brevissimo video, che poi non sarà mai neanche breve, perché come al solito mi cicciari e va bene così, per mostrarvi questa novità. Se non la conoscete, magari la conoscete, non la conoscevo io, non la conosceva la Lella. Però vabbè, siccome ci sembrava una cosa bella da condividere, questa è una condivisione in coppia. E vi arriva con questo bellissimo Depliant, dove fa vedere appunto le varie tipologie di prodotti che ci sono. Qui dietro vedete le altre cose. Cioè io veramente, se amate o se conoscete qualcuno che ama il tè e le tisane e volete fare un regalo davvero secondo me carino, elegante e molto originale, io un'occhiata al sito ce la darei. Va bene ragazzi, io vi saluto, vado a preparare da mangiare perché è quasi luna, ma volevo condividere subito con voi questa bella novità per me, in modo che magari se volete pensare ai regali di Natale ci potete anche pensare un attimino in anticipo. Vi saluto, ci vediamo presto, ciao e al prossimo video. E grazie. Ciao ciao.